Partire il 17 ottobre, alle 10 del mattino, dalla stazione di Roma il treno del PD. Per otto settimane far un percorso di ascolto e confronto attraverso le 107 province italiane. Lo annuncia democratica. Il primo giorno il treno del PD sarà in provincia di Rieti e Viterbo e poi in Umbria. A Perugia, Norcia e Foligno, il secondo giorno toccherà le Marche, ad Arquata e Recanati, il terzo all'Abruzzo e Molise e il quarto in Puglia. Inoltre, il 14 ottobre il PD celebre e il decimo compleanno mentre la conferenza programmatica di Napoli. Confermata dal 27 al 29 ottobre.